Consiglio itinerante questa mattina della quinta municipalità all'interno di quello che rappresenta un patrimonio della città di Catania. Parliamo di Villa Curia che potrebbe diventare proprio un altro polmone verde catanese. È uno spazio molto vasto che ricopre due territori principali, quello di Viale Rapisardi via Curia e poi quello di Corso Indipendenza. Come riqualificare e valorizzare questa struttura è stato il principale argomento affrontato durante il Consiglio e che ha visto tra l'altro anche la presenza dell'assessore alla cultura Orazio Licandro che ha parlato delle possibili soluzioni che ovviamente necessitano però anche di un contributo da parte della comunità europea. Una villa che appartiene alla storia di questa città è però versa in queste condizioni. Occorrono interventi significativi quindi dal sopralluogo di Stamani cominciamo a pensare a una strategia che ovviamente cerchi delle risorse in Europa. Questo è un luogo che ha mille potenzialità in cui si potrebbe fare di tutto sia all'interno che all'esterno. La villa è bella e questo potrebbe diventare un altro dei cuori pulsanti della città, non soltanto per il quartiere ma dico per la città. Originariamente Villa Curia era affidata ai monaci benedettini che ne curavano la struttura bellissima come potete vedere anche dalle immagini purtroppo adesso è versa in condizioni di degrado. Loro si occupavano in modo particolare di gestire un acquedotto che consentiva poi di portare l'acqua sino al monastero di Piazza Dante successivamente poi passò nelle mani della famiglia Curia e in seguito venne consegnata al comune. Attualmente è gestita da tre associazioni, Lea Ristogatte, Gli altri e Ianta che si occupano come si può intuire dei gatti cercando di fermare così il fenomeno di randagismo. Ma un'altra soluzione arriva dal consigliere di circoscrizione nonché presidente della prima commissione Michele Neri. Oggi si è fatto il punto della situazione, un punto da cui partire affidando magari questa struttura agli scout. Altre associazioni che potrebbero intervenire sono quelle scout o simili. Gli scout per loro origine, per loro istituzione amano questi spazi verdi. Quindi io magari li inviderei anziché usufruire del parco dell'Etna o Nicolosi magari di lavorare dentro la propria città per alimentare la struttura.